Oggi siamo venuti in visita al ritiro di Carpegna dove la VL sta lavorando. Oggi è il quinto giorno di lavoro, la squadra è arrivata in paese domenica pomeriggio e oggi comincerà il lavoro vero e proprio con contatto fisico, quindi con 5 contro 5 e finalmente il coach potrà mettere in pratica i concetti su cui ha lavorato e verificare se i giocatori come da libro lo portano veramente in campo il lavoro che è stato svolto. C'è molto entusiasmo, abbiamo visto i due americani già abbastanza integrati nel gruppo italiani, quindi sarà interessante vedere che cosa succederà dopo il ritiro con le prime amichevoli e intanto lunedì parte la campagna abbonamenti. La palestra è un gioiello tutta per noi dove possiamo fare sia lavoro di pesistica che appunto a pallacanestro. Sembra fatta apposta questa discesa per Venerandi dove si scatena terribilmente, ieri le ha fatti morire, le ha ripetute in salita. Tutti molto accoglienti, c'è stata una grande accoglienza, qualche spettacolo la sera tra teatro e musica, quindi proprio davanti all'hotel, quindi direi location perfetta, grande grande ospitalità e poi molto bello ecco perché poi tutte le colline qui sono veramente un gioiello. Abbiamo fatto della pallacanestro senza contatto per evitare possibili infortuni, adesso da oggi cominceremo a mettere un pochino più di pallacanestro, anche se le sedute mattiniere sono molto intense e quindi non possiamo dilungarci più di tanto. La prima settimana un occhio di riguardo un po' più alla preparazione e poi aumenteremo sempre di più la pallacanestro in campo. C'è un gruppo dirigenti che sta lavorando per fare in modo che tutto sia nel migliore dei modi e credo che questo stia avvenendo fuori dal campo in maniera perfetta, ecco non abbiamo nessun tipo di, un gruppo staff che io conoscevo già che però bisognava riprendere, poi soprattutto grande interazione con il preparatore, con gli assistenti e poi c'è il gruppo squadra che ancora squadra non è, sono un gruppo di ragazzi che si sono trovati, stanno iniziando un percorso, un lavoro e bisognerà avere anche grande integrazione da parte loro. La due non è la serie uno dove si hanno cinque o sei stranieri, se ne hanno due, uno appena arrivato, è importante anche che i ragazzi lo accolgano bene, accolgano bene anche Kinga, ci sia un inserimento tecnico ma anche umano per fare in modo di fare una stagione insomma anche divertente perché sarà lunga e non sarà sempre facile sottoporsi a questo stress. Pressioni dai, sono per il momento buone, da questa settimana con questo ritiro inizia la stagione che sarà molto dura e impegnativa e soprattutto sarà lunga, ci saranno 38 partite che speriamo bastino per raggiungere quello che è il nostro obiettivo, ovvero salire nella massima serie. I giocatori sono, la squadra secondo noi è ben strutturata, abbiamo esperienza da alcuni giocatori che hanno già fatto questo salto dalla A2 alla A1 e un po' di giovani che lo stesso possono dare quell'apporto per poi aiutare. I due americani sono lo stesso dei giocatori che sono abituati a vincere, hanno vinto i loro campionati anche all'estero dove hanno giocato. Diciamo che c'è tutto un mix per poter sperare bene quest'anno. Mi considero comunque un veterano in questa categoria perché ormai è la sesta o settima stagione che gioco in questo campionato quindi lo conosco abbastanza bene. A prescindere c'è una tifoseria pazzesca quindi speriamo adesso di fare bene questo anno e di insieme tornare in A1. Siamo tutti giocatori che giochiamo a questo livello da anni quindi sappiamo cosa serve per costruire che adesso siamo ancora in fase di costruzione, è una stagione importante quindi ci stiamo conoscendo io i ragazzi li conoscevo solo da avversari quindi sto imparando a conoscere però siamo tutti concentrati su quello che è l'obiettivo.